E anche oggi al mercatino giapponese Benvenuti in Kiwi Bella a tutti ragazzi, Shokari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti, benvenuti in questo ragazzi nuovissimo video Oggi come potete vedere siamo al mercatino giapponese, all'ippodromo di K.A.N.L Dove anche oggi ci sta, come ho detto, il mercatino giapponese con i cosplayer I cosplayer che tra poco andrò a rompergli le palle Oggi ragazzi, nuovo format, fammo votare i cosplayer tra di loro Magari esce qualche cosa, non se sa ragazzi, proviamo sto nuovo format Vediamo come va, insomma, oggi le palle le rompiamo in una maniera diversa Ma non prima ragazzi che vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate E va tutte le cose che dovete fare sempre, lo sapete ragazzi, lo sapete Oggi nuovo format, quindi anche oggi sopportatemi e supportatemi ragazzi Andiamo, vedo dai, i primi cosplayer ti sembrano tipo piumati Andiamo a vedere chi cazzo so Vieni tu, vieni tu e vieni pure tu, vieni pure tu Il capitano Il capitano Allora ragazzi, oggi ragazzi, lo riconoscete perché lo vedo, ultimamente ci sta sempre nei video Lui è? Rab, Rabber, Ruffi Rabber, Ruffi, Ruffi Scrivetelo qua sotto nei commenti quale preferite Allora ragazzi, oggi nuovo format Allora, dagli un voto da 1 a 10 Che voto gli dai a lui da 1 a 10? 10 10 e 10 Tu invece dagli un voto a lui da 1 a 10 10 Eeeh, vabbè, senti, dimmi qualcosa del tuo cosplay che non te piace Cos'è che non te piace del tuo cosplay? C'è stata una cosa Le caviglie scoperte Le caviglie scoperte, allora, le hai dato un 10 però c'ha le caviglie scoperte Vabbè Uguale, sempre 10 le dai Invece qualcosa a te del tuo cosplay che non te piace adesso Dimmi una cosa Cos'è che non te piace? Eeeh, non so, il telefono E' il telefono, e' il rubber, e' Ruffi col telefono Sempre, sempre 10, ok, cambia il voto Però poi metta svegliato gli pare, ci arriva un altro Quindi voto sempre 10 o qualcosa Fenomenale, 10 Anzi, anche 11 Stava avanti Anche 11 Allora ragazzi, voto 10 e 10 10 e 10 Voi date un bacetto, zi Dateve un bacetto Date, date la bra, dateve la braccia Ma chi cazzo siete ragazzi? Io Makima Makima Gojo E' Gojo Senti, allora, dai un voto da 1 a 10 a lei Che voto gli dai dal suo cosplay? Digli 10, 10 Eh, 10, è più cattiva, zi Dagli un voto cattivo No, no, è brava, è brava anche perché l'abbiamo preparato insieme Quindi 10, allora Tu invece che voto gli dai? Allora 9 ma ci vuole Allora, io, allora, no, io gli do 9 perché la parrucca l'ho acconciata io L'ha acconciata tu Però il personaggio, diciamo, c'è un po' di assio nei suoi confronti Perché ha fatto fuori il mio personaggio preferito Senti, dimmi qualcosa che del tuo cosplay non ti piace adesso Che cosa è che non ti piace del tuo cosplay? Probabilmente le lenti perché mi danno fastidio Ok, quindi tu gli hai dato 10 Però c'è le lenti che gli erano un po' nelle palle Sempre 10 rimane o scendi un po'? No, 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 sempre 10 perché sta resistendo a questa E invece del tuo cosplay qualcosa che non ti piace adesso? Le lenti che non sono riuscita a mettere perché mi danno fastidio Quindi il voto rimane lo stesso locale un po' di più Sì, rimane lo stesso Rimane lo stesso Quindi stiamo con un 10 e un 9 Raga, datevi un bacetto Zì, dai, dai Datevi un bacetto Col cappello rosso chi sei? Chi sei tu? Io Tu sei? Vediamoci il zazzecco Scrivetelo qua sotto nei commenti Che personaggio è? Chi sono io? Non lo so neanche io Non lo so Poi invece lei sta a star a ride Resta qua, resta qua Perché lei sta a star a ride Viè qua, viè, 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 viè Viè qua, viè Tu, che personaggio sei tu? Un Dorito Un Dorito, raga Sì, è proprio Ve la ricordate bene Stava anche nel video del Romics Stava Eri tu Ero io Ero io Senti Allora, fammo una cosa Dai, un voto A lei, da 1 a 10 Mi raccomando, bella cattiva devi essere Allora, devo essere Critica sul cosplay Sì, sì, cattiva proprio Dai, vai Da 1 a 10 Che voto gli dai? 6 e mezzo 6 e mezzo Guarda, faccia la sua Tu invece Io gliel'ho sempre detto Che non è il mio Cioè, quella parrucca Quella parrucca va sistemata Va sistemata Tu invece Che voto gli dai Da 1 a 10 Pure tu, bella cattiva Che voto gli dai? Ma ne so, più buona 7 7 Senti, dimmi qualcosa che non ti piace del tuo cosplay adesso Del mio La parrucca La parrucca Quindi resta sempre 6 e mezzo o lo vuoi calare o abbassare? Che non gli piace la parrucca A parrucca non gli piace tanto 7 7 7 Lo alziamo un po' di più Invece 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 del tuo cosplay Cos'è che non ti piace? La mia faccia La tua faccia A lei non gli piace la sua faccia Resta sempre quello il voto o lo cambiamo? Lo alziamo o lo abbassiamo? Dai, dai, lo alziamo 7 e mezzo 7 e mezzo 7 e mezzo Quindi abbiamo un 7 Abbiamo un 7 e un 7 e mezzo Raga Datevi un bacetto Perché il voce è quasi uguale Datevi un bacetto Vai, vai, vai Viva l'amore Ste type così Ste type con i capelli violi E poi lei con l'occhio caduto Con l'occhio che gli stacca dell'occhio Spera, via qua, via qua Che personaggi siete, raga? Che personaggi siete? Cosmo di Cenzomen Cosmo di Cenzomen Tu invece? Tre di Cenzomen e Riz, però Come? Riz Riz Senti, oggi nuovo format, raga Senti, dai un voto Da 1 a 10 a lei Bella, cattiva devi essere Cattiva A lei Dal suo cosplay Com'è fatta? 10, 10 Più cattiva, zi? Non posso, la conosco Quindi 10, 10 Tu invece dai un voto A lei Da 1 a 10 10 e mezzo 10 e mezzo 10 e mezzo Senti, dimmi qualcosa Che del tuo cosplay non ti piace Sta a parte questo per il cervello Sta a parte del cervello, così Non ti piace Senti, quindi Quindi a lei Dici che sta a parte qua del cervello Non è fatta tanto bene E gli resta così Lo caliamo un po' E ce n'ha altri 7 dei cervelli Quindi va bene così Sì, va bene Invece del tuo cosplay Cos'è che non ti piace? Manca la testa in realtà Ci dovrebbe essere una testa Però non ce l'ho Dovresti avere un'altra testa Un'altra testa Un'altra testa che non ti piace Quindi a lei Gli manca una testa Gli manca Abbassiamo un po' il voto Che dici? No, no, no Va bene lo stesso E allora E allora ragazzi Viste che i voti Sono quasi uguali Datevi un bel bacetto Un po' la sovidenzata C'è la sovidenzata E datevi un abbraccio Dai un freehugs Famose el freehugs Famose el freehugs A chi è stato questo personaggio Sì? Vabbè perché sinceramente Dato che c'è il tempo E il sole eccetera Sono anche in canottiera Quindi sono stato molto leggero Stai bene Ma come te chiami tu? Io mi chiamo Joscu Di JoscuCosp E sono su Instagram Tranquillamente Sì, sì Andata la trovata Sì, sì Andata la trovata Senti Meglio cinese O fatto a mano Allora Meglio In ambito Come posso dire Di cosplay Alle prime armi Fatto a mano Perché tornando a casa Io sto cercando di fare un cosplay Fatto completamente a mano Assieme alla mia ragazza Dal cinese Comprando le robe Dal cinese Lo fai a mano Se fai un misto Se fai un misto Senti Quindi il tuo personaggio Che personaggio è? Il personaggio che sto facendo È Katsuki Bakugo Di Mayura Academy Katsuki Bakugo Katsuki Bakugo Ha capito Katsuki Bakugo Quindi E quindi fai Katsuki Bakugo Esatto Katsuki Bakugo Katsuki Bakugo Ma invece stiamo Con Nezuko Nezuko Questo è quello che ho visto prima Viva l'amore E tu invece sei? Uguale Stessa cosa Senti Dagli un voto Bello Però deve essere cattivo Sì Dagli un voto Da 1 a 10 Al suo cosplay Com'è? E Nezuko Quindi È bellissima Che voto gli dai? Da 1 a 10? 100 100 100 100 Tu invece che voto gli dai Da 1 a 10 A lui A suo cosplay Mille Mille addirittura Senti Dimmi un cosplay Che non ti piace La parte del tuo cosplay Adesso non ti piace Qual è Le unghie Le unghie Non ti piace Perché? Perché voglio Quelle lunghe Proprio artigliosi Di 2 metri di unghie E quindi A lei non gli piacciono le unghie Lo abbassiamo un po' Il voto Che dici? Lo portiamo a 3.000 A 3.000 Proprio Invece del tuo cosplay Cosa che non ti piace? Visto che lei Ha il ciontero più bello A te te manca Ah Lei c'ha l'uccello più bello E lui c'ha Non c'ha l'uccello bello E lui c'ha Quindi lui 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 non c'ha l'uccello bello Ha perso l'uccello Non c'ha l'uccello bello Lo abbassiamo un po' Il voto Che dici? No Si alza 4.000 Lo alza lei Lo alza lei l'uccello Lo alza lei l'uccello E allora ragazzi E allora ragazzi Visto che lo alza lei l'uccello Vieni qua Vieni qua Datevi un bel bacetto Datevi un bel bacetto Questo tipo Questo tipo Con serpente E invece Sta tipo Con i capelli verdi Allora ragazzi Innanzitutto Chi sei? Iguro Banai Iguro Banai Tu invece sei Lui ci rottocchito Ma sempre dello stesso Coso di De Mosè Senti Dagli Deve essere cattivo Però Dagli un voto Da 1 a 10 Al suo cosplay Bello cattivo Devi essere Però eh Dai Vai dagli un voto 8 8 8 Tu invece dagli un voto A lui Da 1 a 10 10 10 10 Più cattiva Più cattiva devi essere No Vabbè 9 9 9 Senti dimmi Qualcosa del tuo cosplay Che non ti piace adesso Ehm Non lo so Cos'è che non ti piace La katana La katana Non ti piace Quindi a lei Non gli piace la katana Non è quella giusta È lo stesso O abbassiamo un po' il voto Che dici? No È sempre lo stesso Sempre lo stesso Invece del tuo cosplay Adesso Cos'è che non ti piace? Ma io devo dire Nulla Che non ci sta Che non ti piace Quindi a lei Va bene così Va bene Quindi Tu siamo con un 9 Hai detto 9 E tu hai 10 Allora ragà Visto che i voti sono uguali E dateve un berbacetto Dateve un berbacetto Dateve un freehugs Dateve un freehugs Dateve un freehugs 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 E qui ragazzi Con chi è Pure lei Pure tu Freehugs Friansiamoci tutti Noi ragazzi Ci vediamo Al prossimo video Che non so qual era Ma ci sarà un prossimo video Shokari